bentornati su soluzioni pc oggi facciamo il video più importante dell'anno oggi parliamo di un argomento molto importante che coinvolge milioni di utenti in tutto il mondo la fine del supporto di windows 10 che arriverà il 14 ottobre 2025 lo so molti di voi stanno ancora usando windows 10 tutti i giorni e forse non avete fretta di cambiare quindi in questo video vedremo cosa succede dopo questa fatidica data quali opzioni avete e come potete continuare a usare il vostro pc in sicurezza senza fare scelte affrettate dal 14 ottobre 2025 windows 10 non riceverà più aggiornamenti e non ci sarà più supporto tecnico questo significa che eventuali falle nella sicurezza scoperte dopo quella data non verranno più corrette il vostro pc diventerà progressivamente più vulnerabile a virus e attacchi non è però una tragedia immediata perché office 365 e microsoft defender continueranno a ricevere aggiornamenti fino a ottobre 2028 quindi non sarete del tutto scoperti ma questo non significa che gli aggiornamenti sulla sicurezza ci siano perché defender è un antivirus quindi si occupa di proteggervi dagli attacchi di virus e simili non a coprire delle falle nella sicurezza del sistema operativo c'è un aggiornamento dell'ultima ora negli ultimi giorni microsoft ha dichiarato che solo in europa i requisiti per ottenere gli aggiornamenti di un anno fino a novembre 2026 non ci saranno quindi noi avremo windows aggiornato windows 10 aggiornato gratuitamente poi vi spiegherò meglio i requisiti che spiegherò successivamente valgono per il resto del mondo partiamo vedendo quali sono le opzioni che andremo a snocciolare nel video la prima è quella di passare a windows 11 oppure se non possiamo passare a windows 11 o scegliamo di rimanere a windows 10 vediamo come farlo per uno o più anni in ultima alternativa è quella di migrare su un altro sistema operativo se il vostro pc è compatibile passare a windows 11 è la scelta più semplice che vi garantisce aggiornamenti di sicurezza e funzionalità a lungo termine per passare a windows 11 scaricate l'assistente all'aggiornamento e seguite la procedura vi lascio il link descrizione se invece non avete un pc recente windows vi dirà che i requisiti non vengono soddisfatti quindi prima che windows vi dice questa cosa io vi faccio vedere quali sono i requisiti richiesti per windows 11 una cpu di almeno un gigahertz dual core 64 bit ram 4 gigabyte o superiore un disco con almeno 64 giga di spazio libero un bios wifi con 6 core boot il tpm versione 2.0 una scheda grafica compatibile con dialett x12 e i driver vdd m 2.0 uno schermo compatibile e la connessione internet per gli aggiornamenti futuri se non siete sicuri della compatibilità microsoft offre uno strumento ufficiale per verificarlo vi lascio in descrizione la pagina ma quindi se il mio pc non soddisfi i requisiti minimi devo cambiarlo in teoria sì ma esistono dei metodi che permettono di bypassare i requisiti minimi di windows 11 e permettere l'installazione anche su macchine non completamente compatibili e questo è una definizione capisco un po vaga perché ci sono delle macchine che proprio non lo possono far girare windows 11 però per la maggior parte ormai dei pc in commercio qualcosa si può fare per esempio usando fly by 11 o una chiavetta usb creata apposita con rufus se volete saperne di più possiamo fare un video a riguardo scrivetemi nei commenti se vi interessa inoltre vi lascio due link in descrizione per vedere se il vostro processore è compatibile con windows 11 24 h 2 uno è per amd e uno è per intel ok appurato che il nostro pc non supporta windows 11 è l'unica scelta è quella di rimanere su windows 10 oppure possiamo anche scegliere di rimanere su windows 10 i motivi possono essere tanti quello di non avere i soldi o di pianificare una spesa più avanti per l'acquisto di un nuovo computer oppure magari utilizzate del dei software che richiedono un certo sistema operativo e avete paura che non sono compatibili su windows 11 magari qualche software è un po vecchio indipendentemente da questo rimanere su windows 10 senza aggiornamenti di sicurezza per il sistema ma solo con gli aggiornamenti windows defender office 365 diciamo che non è la scelta migliore nel medio lungo periodo ripeto che nell'immediato dopo il 14 ottobre non succederà niente di irreparabile avete comunque un certo tempo per prendere una decisione ponderata quindi ci sono delle opportunità per prendere tempo e adesso parliamo di come avere gli aggiornamenti gratuiti fino al prossimo anno allora di base per avere gli aggiornamenti gratuiti fino a novembre 2026 avete bisogno di un account microsoft avere windows 10 aggiornato all'ultima versione e attivare il backup su onedrive tramite la relativa app o spendere mille punti microsoft rewards se li avete ecco quest'ultima opzione qui in europa è stata eliminata quindi non dovete attivare il backup su onedrive rischiando di spendere altri soldi perché vi si riempie immediatamente i qui 5 giga che vi danno gratuiti o magari senza utilizzare i vostri punti rewards quindi è sufficiente avere windows 10 aggiornato all'ultima versione e vi comparirà una scritta che vi dice che siete a posto per gli aggiornamenti del prossimo anno qualora vi trovaste fuori dall'europa oppure avesse qualche problema nell'aggiornamento di windows vi tocca pagare partecipare all'extended security update il programma di aggiornamenti per windows 10 a pagamento è a pagamento quindi costa circa 30 dollari per i privati e 60 61 per le aziende le aziende poi possono avere tre anni invece di uno di aggiornamenti raddoppiando ogni volta il costo della sottoscrizione quindi il secondo anno diventano 122 dollari il terzo anno diventano 244 questi aggiornamenti includono solo le patch di sicurezza vi ricordo e non nuove funzionalità quelle saranno riservate solamente a windows 11 ma microsoft non è l'unica che può offrirvi gli aggiornamenti di sicurezza esistono anche delle soluzioni alternative come zero patch un progetto indipendente di across security che fornisce aggiornamenti per windows 10 ad un prezzo di 25 o 35 euro l'anno a seconda del piano che potete scegliere pensate che hanno anche un piano gratuito che include delle patch per le vulnerabilità più critiche vi lascio un link in descrizione per conoscere meglio le loro offerte un'altra possibilità di rimanere su windows 10 è quella di cambiare l'edizione di windows passando a windows ltsc con supporto fino al 2032 fare questa operazione non è sempre una passeggiata e anche trovare le chiavi per questi sistemi non è facile essendo licenze a volume concesse a grosse aziende o enti anche in questo caso se volete una guida più specifica scrivetemi nei commenti e vedrò di fare un video a riguardo infine se nessuna di queste opzioni precedenti vi ha convinto non vi rimane che passare a un altro sistema come linux ad esempio ubuntu con il quale ormai è possibile fare tutto quello che si fa su windows anche il gaming oppure passare a chrome os o a mac os ma lì in quel caso bisogna comprare anche delle macchine apposite in definitiva la fine del supporto di windows 10 non deve spaventare ma è importante pianificare in tempo voi che cosa farete rimanete su windows 10 il più a lungo possibile o approfitterete dell'occasione per cambiare sistema operativo o magari anche il computer spero di esservi stato utile ed avervi fatto capire cosa fare dopo il 14 ottobre vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un like per altre soluzioni pc noi ci vediamo in un prossimo video ciao